Buonasera signor obbriatore, dalla bocca del forno della pizzeria del comune di Schraffigio volevamo salutarla cordialmente e ricordarli che non sono quelli che pagano la pizzeria 5 euro ma quelli che fanno nella sua pizzeria la vaga di garantie, lo svuota sempre, farla, acqua e sali e stia un po' di lieve giustamente. E poi volevo ricordarli la differenza tra Suvizzaiolo e suo padre e saponaremo di Subabu. Praticamente chi suvizzaiolo dita a bocca del rima salizza non sa aggiungerla chi Subabu dita a bocca del rima mora su questa regione di conflitto in questa scontesa. Arrivederci e mi raccomando, quando volete venire a Schraffigio la pizza è sempre calda per lei. Ciao!